Eccoci, grazie Gian Mario, com'è andata? Grazie Gian Mario, mi prendo un'ultima parentesi, Gian Mario sarei d'accordo con me, si parlava di una storia di forza, coraggio, caparbietà, voglia di non mollare mai, mi sento con questo slancio di mandare un pensiero anche alla popolazione di Bitti, ovviamente in questi giorni colpita dall'alluvione che sta reagendo con la forza, la caparbietà, il coraggio e la voglia di non mollare mai, che appunto abbiamo visto è tipica di queste terre. Un caro abbraccio a tutta la cittadina di Bitti. Ora cominciamo la nostra carrellata, allora c'è già, come abbiamo sentito da Gian Mario pronto il primo relatore, io lo vado a presentare brevemente ma poi mi faccio una piccolissima e velocissima chiacchierata con lui perché non mi posso perdere questa occasione, scrittore, giornalista, insegna comunicazione scientifica ai dottorandi all'Università di Padova, io non so come abbia fatto, ha scritto 50 libri e ovviamente centinaia di articoli, tra l'altro una cosa che mi sta particolarmente è la sua presenza praticamente fissa a Super Quark, lo andiamo a chiamare Massimo Polidoro, ci sei? Certo che ci sono, come state? Caro Massimo, buongiorno, come stai? Tutto bene, grazie, un piacere, vorrei essere lì con voi fisicamente, ahimè. Guarda quanto sarebbe bello poterci abbracciare, stringere la mano, guardarci negli occhi, torneranno quei tempi però intanto, oh buttiamolo via, abbiamo questa occasione quindi voglio dire, intanto Massimo tu ovviamente ci parlerai di un fenomeno molto importante però volevo prendermi un momento intanto per parlare un po' con te perché 30 secondi, veloci veloci, come sai abbiamo un ritmo molto serrato però è importante sapere alcune cose, tra l'altro appunto la divulgazione scientifica in questo momento che secondo me è uno dei momenti cardini e più importanti, come la stai vivendo, come la vedi, è una missione, non lo è, come la vivi? Perché secondo me in questo momento di grandi evoluzioni e rivoluzioni i divulgatori scientifici io li vedo un po' come i nostri eroi che ci stanno salvando dal perdere per strada tante cose importanti? Beh senz'altro è importante perché in questo momento soprattutto dove si sentono dire davvero le cose più disparate e soprattutto spesso molto infondate bisogna ascoltare quelli che sono i fatti della scienza, i fatti li raccontano sì gli scienziati ma li rendono comprensibili soprattutto i divulgatori perché è il loro lavoro, prendere le ricerche della scienza e renderle comprensibili a tutti, ma è un lavoro, richiede studio, richiede preparazione e non si possono così raccontare cose un po' come sembra, l'ho sentito, l'ho letto su Facebook perché altrimenti si rischia davvero di prendere l'ucciole per l'alterno. A proposito, con questo mi aggancio proprio al tema di oggi, l'ho letto su internet, un tempo è, lo ha detto la TV, adesso no, no, l'ho letto su internet e c'è questa dinamica che è questa parola nuova che finisce sempre in emia, no, perché la pandemia, questo nome che ci ha un po' raccolto in quest'anno che è un'altra parola nuova, ma c'è un'altra parola nuova che si lega a questa che è infodemia, cioè questa caratteristica di essere invasi pervasi da una incredibile quantità di informazioni, informazioni che molto spesso, troppo spesso non sono nemmeno veritiere, fondate, infatti è proprio questo il tema di cui ci parlerai appunto, chiamandole nel termine punto tecnico, le bufale oggi, giusto? Esattamente. Allora, proprio per questo Massimo, io ti lascio ovviamente il palco e quindi ti lascio l'intero monitor, mi raccomando, dovrò essere bravissimo, 12 minuti, al massimo poi sono stato autorizzato dal CONI, posso entrare in gamba tesa, mi hanno dato questo compito. Bene Massimo Polidoro, a te la linea. Grazie, grazie davvero. Effettivamente, come dicevi, viviamo in un'epoca dove siamo convinti di avere il controllo sulla realtà che si circonda, pensiamo di riuscire a capire se qualcosa è vero oppure no, ci fidiamo delle nostre capacità di giudizio, della nostra memoria, delle nostre percezioni, ma le cose sono un po' più complesse di come sembrano. Oggi viviamo in un'epoca, magari l'avete sentito dire, che alcuni chiamano della post-verità, no? Però non è una definizione che mi sembra tanto appropriata, perché presuppone che un tempo vivessimo in un'era d'oro in cui la verità regnava suprema, ma in realtà un'epoca simile non c'è mai stato. Da quando esiste l'uomo esiste la menzogna, la disinformazione, la propaganda, e da sempre l'uomo mente servendosi degli strumenti che ha a disposizione per diffondere le sue bugie. Nell'antica Roma lo faceva Nerone quando ha cercato di sviare, insomma, la colpa che gli veniva attribuita per l'incendio della città, inventandosi così una bufala, dando la colpa ai cristiani che erano visti all'epoca come qualcosa di anomalo e quindi ha organizzato la prima persecuzione, ma da allora le cose non sono cambiate. Poi è arrivata la stampa, no? È arrivata la possibilità di diffondere informazioni scritte, stampate, grazie all'invenzione di Gutenberg. Ma anche qui che cosa succede? Che ancora una volta si creano dei documenti falsi per sostenere qualcosa di non vero. Un esempio clamoroso è la donazione di Costantino, secondo la quale l'imperatore Costantino avrebbe regalato alla chiesa il dominio su Roma, su tutto l'impero d'Occidente, quando Costantino poi si è trasferito in Oriente, diciamo così, ed era una falsità totale, un documento falso creato ad arte molti secoli dopo che Costantino era ormai morto. Poi l'invenzione, dicevamo, dopo la stampa c'è stata chiaramente gli altri strumenti, no? È arrivata la rabbia, è arrivata il cinema, è arrivata la televisione. Oggi abbiamo il web che è lo strumento che tutti quanti utilizziamo per comunicare. E allora sentite questa frase che forse vi suonerà familiare, la credulità oggi è un male più grande di quanto fosse un tempo, perché oggi è molto più facile diffondere informazioni false e sembra descrivere perfettamente la situazione che stiamo vivendo. Ma il fatto è che questa frase l'ha pronunciata Bertrand Russell nel 1922, quando i giornali e le radio iniziavano a diffondersi sempre di più. Quindi l'idea che anche le bufale siano qualcosa che dilaga solo perché è colpa del web è un po' un errore. Quello che è assolutamente vero è che il web è uno strumento straordinario, ma non è buono o cattivo. Diffonde le notizie. Il problema è che per chi vuole diffondere notizie false queste possono raggiungere tutto il mondo in pochi istanti, anzi istantaneamente, e poi diventa molto difficile smentirle e raggiungere tutte le persone che hanno sentito dire quella bugia, per esempio. Però dobbiamo anche stare attenti a un altro aspetto. Se da una parte c'è una battaglia costante nel campo dell'informazione, per esempio gli stessi giornali, le stesse testate tradizionali rischiano di perdere credibilità perché nell'inseguire la rapidità che ha il web molto spesso danno notizie che non sono abbastanza verificate, che non sono state controllate, quindi si resta in superficie, si dà una notizia clamorosa che poi si scopre essere falsa. Ecco, in questo modo i giornali, le televisioni perdono la credibilità che si erano costruiti. E le persone alla fine si ritrovano a documentarsi da sole, rischiando, come dicevamo, di prendere lucciole per lanterne. Allora dicevamo che però se c'è questa battaglia costante nell'incampo dell'informazione tra il attenersi ai fatti e la tendenza a dare spazio a ciò che è sensazionalistico, un conflitto analogo, dobbiamo ricordarci, che avviene anche nella nostra mente, perché non solo noi non ci possiamo fidare delle nostre capacità percettive, come abbiamo visto, insomma, ma anche di quelle cognitive, di ragionamento, anche queste possono trarci in errore. Nella nostra mente anche qui c'è una competizione costante per il controllo tra quella che possiamo chiamare la sfera razionale e quella invece più primitiva, cioè la sfera istintiva, quella dove regnano le emozioni. E la seconda parte in assoluto vantaggio. Il premio Nobel Daniel Kahneman parlava in questo proposito di pensieri lenti e pensieri veloci. Pensieri lenti sono quelli razionali, più impegnativi, che si sono evoluti molto più tardi nel nostro cervello e quelli invece veloci sono i pensieri istintivi, emotivi, quelli che permettevano ai nostri antenati di salvarsi in situazioni estreme perché prendevano decisioni velocissime sulla base di pochi dati. Però oggi quel modo di ragionare, che una volta era così prezioso, rischia di trarci molto spesso in errore. La ricerca, per esempio, di conferme per le nostre convinzioni il bisogno di rassicurazioni e altri errori cognitivi che tutti noi possiamo fare, dunque tendono a renderci particolarmente suscettibili a tutto ciò che è coerente con il nostro modo di pensare, anche se va contro tutte le prove. Quindi come possiamo fare per difenderci, per cercare se non altro di evitare di credere vere le bufale più clamorose? Allora il primo consiglio è quello di essere sempre sceppici. Essere sceppici però, attenzione, non vuol dire dubitare di tutto quello che leggiamo, che vediamo. Vuol dire prenderlo con le molle, ma sia che venga dalla televisione, sia che venga dalla radio, ma anche se viene dal web. Non è che se qualcosa è sul web allora è vera, per forza. Anzi, è molto più difficile quando c'è qualcosa sul web capire se è vera o non è vera. Bisogna imparare a ragionare come fa la scienza, cioè sviluppare una mentalità scientifica. Che significa? Significa andare a cercare i fatti, verificare i fatti. Non ascoltare qualcuno che parla perché magari è una persona famosa, magari perché dice delle cose che ci fa piacere credere vere. No, dobbiamo proprio stare attenti alle cose dette e verificare che siano fondate. Il secondo, per capire se le cose sono fondate, è proprio quello di risalire alla fonte. Cioè, chi sta facendo questa affermazione? Noi abbiamo letto un post su Facebook. Sì, ma chi è questa persona che dice queste cose? È un esperto, ma esperto di che tipo? C'è un'istituzione credibile che ha dato questi dati, queste informazioni? Oppure è un tizio che ha lasciato un vocale su WhatsApp? Ecco, stiamo parlando di cose che non hanno nessuna credibilità, no? Invece vediamo che vengono spesso rilanciate. Dobbiamo chiederci se chi parla, chi racconta qualcosa potrebbe avere delle motivazioni per dire quello che ha detto. In passato, dobbiamo anche chiederci, le affermazioni fatte da questa fonte si sono rivelate credibili, autentiche, verificate? Oppure questa fonte ci ha dato informazioni false? Ecco, sono tutte domande che ci dobbiamo fare per capire se una fonte è attendibile e per evitare di nutrire il nostro cervello con la spazzatura. Noi quando mangiamo, e qui lo sappiamo bene, insomma, cerchiamo di portare in tavola delle cose che siano sane, che ci facciano stare bene, vogliamo sapere da dove arrivano, vogliamo sapere se sono state conservate, se sono scadute, insomma vogliamo sapere tante cose. Allora perché mettiamo nella nostra testa informazioni che non sappiamo da dove arrivano e che possono essere veramente solo spazzatura? Poi il terzo consiglio è quello di aspettare prima di reagire, perché se una notizia colpisce emotivamente, la nostra mente ci fa particolarmente impressione, probabilmente è stata studiata proprio per essere così, perché noi siamo tutti suscettibili alle emozioni forti. Se leggiamo un titolo che ci fa arrabbiare, oppure ci dà soddisfazione perché conferma le nostre convinzioni, quello è il momento in cui dobbiamo stare più attenti, perché quando, come dicevamo prima, ai pensieri veloci, quando le emozioni prendono sopravvento sulla razionalità, è il momento in cui le nostre capacità analitiche di valutazione dei dati sono più deboli e quindi rischiano di sbagliarsi. Un altro consiglio ancora, stiamo attenti alle correlazioni illusorie. Che cosa significa? Il fatto che due avvenimenti si verificano contemporaneamente o molto vicini, non vuol dire necessariamente che sono collegati. Per esempio banale, un gatto nero attraversa la strada e poco dopo inciampiamo nel marciapiede. Vuol dire che è colpa del gatto nero che ci ha attraversato la strada se siamo inciampati. No, quelle sono superstizioni, sono qualcosa a cui poteva credere qualcuno parecchi anni fa, ma che oggi sappiamo non esiste nessun collegamento. Ecco, noi cerchiamo invece, troviamo collegamenti ed è un meccanismo naturale della nostra mente quello di trovare collegamenti, ma dobbiamo stare attenti ad accertarci che ci sia effettivamente una correlazione. E se non riusciamo ad accertarcene noi, affidiamoci a qualcuno che sia affidabile, che sia competente. Non pensiamo di sapere tutto o di poter dare un'opinione su qualunque argomento. Ci sono tematiche molto complesse, come quelle legate alla salute, come quelle legate alla medicina oggi, sulle quali non si può pretendere di farsi un'idea guardando due video su YouTube e leggendo un post su Facebook. Non è sufficiente e bisogna studiare molto. E se non abbiamo la possibilità di farlo, dobbiamo affidarci a persone competenti e ad esperti. L'ultimo consiglio è quello di non cercare solamente delle conferme. Il pregiudizio di conferme è quello che ci porta a cercare opinioni che vadano d'accordo con il nostro modo di pensare. Dobbiamo evitare di farlo. E invece il web, Facebook in particolare, i social, ci chiudono dentro a bolle dove noi ci troviamo a parlare solo con persone che vanno d'accordo con quello in cui già crediamo. Invece dobbiamo sforzarci di parlare anche con chi la pensa diversamente. Per inserire varietà, per avere anche altri punti di vista. Magari non siamo d'accordo, ci mancherebbe. Però sappiamo che esistono anche punti di vista diversi. Due ultimissime cose, poi chiudo e possiamo proseguire anche con gli altri interessantissimi interventi di queste giornate. Due consigli validi, voglio dire, sempre in qualunque situazione. Il primo è che quando ci si trova di fronte ad affermazioni incredibili, quando qualcosa ci sembra troppo bella per essere vera, e a noi piacerebbe molto che quella cosa fosse vera, bene, stiamo attenti perché molto, molto, molto probabilmente non è vera. Se qualcosa è troppo bella, forse è troppo bella e quindi non è vera. L'altro consiglio, come diceva il grande strono e divulgatore americano Carl Sagan, affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Io posso dire quello che voglio, ma per essere creduto devo portare delle prove. E tanto più quello che dico è straordinario, tanto più le prove che porto devono essere straordinarie. Non basta il mio parere, non basta l'opinione di un amico di cui mi fido. Quindi ricordatevi sempre, questa è proprio la cosa con cui chiudiamo, ed è un consiglio che nel corso degli anni mi sono sentito ripetere tante volte che nel CICAR, che è l'associazione di cui faccio parte, che sono il segretario, cerchiamo sempre di diffondere, anche così in maniera divertente. Ed è quella che va bene avere la mente aperta di fronte a nuove affermazioni, di fronte a nuove scoperte, di fronte a nuove rivelazioni anche, perché tante volte scopriamo che effettivamente ci sono dei maneggi loschi in tutti gli ambiti, ci sono a volte dei complotti veramente. Però attenzione, perché un conto è avere la mente aperta, ma questa mente non deve essere così aperta che il cervello caschi per terra. Grazie. Grazie Massimo, grazie, interessantissimo. Aspetta, non stai scappando, vero io? Ce l'ho il tempo per farti due domande veloci, perché è un tema, secondo me, uno dei temi centrali in questo momento, di cui nessuno o pochissimi parlano e che è proprio una nuova educazione, quella che siamo chiamati tutti ad avere. È stato un intervento che è stato esaustivo perché ci ha raccontato un viaggio a 360 gradi, ma vorrei chiederti una curiosità, qual è secondo te l'aspetto ancora più complicato, pericoloso, qual è la dinamica che a tuo modo di vedere, anche magari nel tuo vissuto. Sai, qui la bellezza di non essere in TV o in altre realtà più istituzionali è che possiamo entrare a parlare anche di cose, qualora fosse possibile, più personali, dinamiche che stiamo affrontando. Credo che questo sia molto pratico e chi ci segue da casa lo possa rapportare poi alle sue vite. Certo. Beh, guarda, la cosa che io vedo sempre costantemente è che le persone molto difficilmente sono disposte a cambiare idea quando gli si presentano dei dati che smentiscono le loro convinzioni, perché sentono minacciata quasi le loro credenze, la loro personalità, tutto quello che li rende le persone che sono. Ma non è così, bisogna imparare ad accettare che ci possono essere opinioni diverse, ma soprattutto ci possono essere fatti che contrastano quello che ci piacerebbe credere. Però, ecco, la cosa difficile è che le persone adulte molto difficilmente cambieranno idea. Allora, lo sforzo più grande che andrebbe fatto in una maniera molto più incisiva, magari, di come è stato fatto fino adesso, è quello di investire sui ragazzi, sui giovani, perché sono loro che stanno costruendo il loro modo di ragionare, di pensare e ai quali possiamo dare gli strumenti critici per crescere con quella mentalità che dicevamo, quella mentalità scientifica, che non significa studiare nozioni su nozioni di biologia, di chimica, di fisica, per carità sono importanti, ma molto più importante è capire il metodo, il modo in cui ragionare, perché è un modo, ed è un modo di ragionare che noi ci porteremo appresso tutta la vita, indipendentemente dal lavoro, dalla strada che sceglieremo di percorrere. È un modo di farsi domande che torna utile sempre e che ci permette di stare con i piedi per terra. Assolutamente. E il tema di farsi domande, e qualora non l'avessi capito Massimo, io sono un tipo estremamente curioso. Ho due domande di curiosità. La prima è, Massimo, dici come si fa a scrivere 50 libri e sei giovanissimo. Quanti anni hai, Massimo? Guarda, ti ringrazio per il complimento, ma ho iniziato molto presto. Il primo libro io l'ho pubblicato, l'ho scritto che avevo 18 anni, quindi diciamo che ne ho tanti quanti libri che ho scritto, ne ho più di 50 di anni ormai, e quindi ne ho pubblicati... Il che mi farebbe nascere un'ulteriore domanda, come si fa a arrivare a 50 anni così, che sembra di un trentenne. L'altra cosa che ti volevo chiedere, perdonami, è sempre una curiosità, però, come posso dire, la bellezza di incontrare, anche per me oggi, no? Personaggi come voi. La tua esperienza a Super Quark? Beh, io con Piero Angelo ho la fortuna di lavorare ormai da più di 30 anni, perché insieme abbiamo fondato il CICAP, quell'associazione appunto che va a smontare le bufale, le pseudoscienze e cerca di diffondere questa mentalità scientifica e ormai da diversi anni... Sì, infatti, perdonami, non l'ho citato perché hai un curriculumissimo, appunto, cofondatore e segreto del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, così che almeno ho dato anche questa indicazione molto importante. Perdonami, vai su... Figurati. Vai su, no, no, continua a parlarci dell'esperienza. No, quindi dicevo che poi da alcuni anni ormai siamo tutte le stati, ci ritroviamo anche a Super Quark con Piero per proprio andare a smontare un po' di bufale, perché abbiamo uno spazio fisso che si chiama la psicologia delle bufale, la mia formazione di tipo psicologico, dove cerchiamo anche lì, in televisione, di raggiungere il pubblico molto ampio, cercando di dare quegli spunti critici che poi possono tornare utili a tutti. Assolutamente. Beh, allora, caro Massimo, io ti ringrazio, è stato un piacere conoscerti, grazie per il tuo intervento preziosissimo e ci si vede magari il prossimo anno per il prossimo evento. Assolutamente. Magari dal vivo, chi lo sa. Dai, speriamo. Un caro saluto, grazie ancora. Buon proseguimento a voi. E grazie a Massimo Polidoro, grazie, e linea per una breve sigla alla di Gia. Grazie a Massimo Polidoro, grazie a tutti.